Il nodo dell'attribuzione del premio di maggioranza alla coalizione vincente sarà sciolto domani. Il magistrato che presiede la Commissione elettorale Fabio Montalto comunicherà la decisione dopo aver approfondito la questione e l'interpretazione autentica della norma della nuova legge elettorale ad essere di rimente. Una recente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativo recita di fatti che i voti delle liste che non superano la soglia di sbarramento non hanno validità nella fase del procedimento diretto all'attribuzione del premio di maggioranza. La coalizione che ha sostenuto Enzo Giannone raggiungerebbe così il 41,40% andando al di là della soglia del 40% ed avendo pertanto diritto al premio di maggioranza che significa 10 consiglieri su 16 in Consiglio Comunale. Lo schieramento che ha sostenuto Rita Trovato ritiene invece che sono tutti i voti validi a dover essere conteggiati a prescindere dal superamento della soglia di sbarramento. Per Enzo Giannone avere la maggioranza in Consiglio Comunale sarebbe naturalmente importante per guidare la città anche se il sindaco ha già fatto appello alla solidarietà e dal perseguimento del bene comune tra tutte le componenti. Intanto lo stesso neosindaco, le cui condizioni di salute sono in lieve miglioramento dopo l'influenza che lo ha colpito in maniera pesante, si insedierà domani mattina al Comune. Sarà la triade commissariare a passare ufficialmente il testimone al neosindaco che in questi due giorni ha cancellato ogni appuntamento per rimettersi in salute e cominciare a lavorare. Domani quindi il tradizionale passaggio della fascia tricolore al neosindaco alle 11 e mezzo in municipio unitamente allo scioglimento del nodo sull'attribuzione del premio di maggioranza.